Salve a tutti e benvenuti su Plenoctis. Io sono Rob e oggi voglio proporvi la mia recensione di Oxygen, un nuovo film disponibile su Netflix che vede come protagonista Mélaline Laurent. Partiamo subito dal fatto che il film non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per il fatto che nel momento in cui ci troviamo di fronte a un film di fantascienza che mette insieme tante idee differenti, in effetti a un certo punto sembra davvero di trovarci di fronte a una sorta di puntata di Black Mirror condensata e allungata, poi dilatata per durare un'ora e quaranta. Le idee base diciamo che ci sono anche, però la gestione complessiva delle tematiche presenti secondo me è insufficiente perché la maggior parte delle situazioni diventa totalmente inverosimile nel momento in cui la protagonista, che si ritrova all'interno di una capsula di criogenia, di stasi criogenica Omicron 267, sceglie nel momento in cui si risveglia di fare delle domande, di porre delle questioni, di agire in maniera sempre via via più inverosimile. Tanti aspetti della questione sono davvero poco realistici. Lei si ritrova all'interno di questa capsula con l'ossigeno che piano piano diminuisce e quindi ha un tempo compreso fra una quarantina di minuti e un'ora e qualcosa per cercare di sopravvivere o comunque trovare la maniera per appunto sopravvivere o comprendere quello che le sta succedendo. Tra l'altro al risveglio non ricorda nulla, quindi mano mano i ricordi ritornano ma tutto questo poi avrà un effetto, un significato che si scoprirà man mano. E diciamo che dal punto di vista del film che cerca di creare una sorta di investigativo al contrario, cioè si parte da una situazione e si cerca di capire come ci si è arrivati e qual è la situazione di contorno. La costruzione come dicevo è anche interessante e i temi ci sarebbero pure. Il problema è che nel momento in cui tu poni delle basi poi quelle devono essere verosimili e trattate in maniera verosimile. Ci sono delle situazioni anche al risveglio ad esempio in cui lei non fa delle domande fondamentali, non chiede all'assistente Milo, l'assistente ovviamente virtuale, l'intelligenza artificiale, non fa delle domande corrette, non fa delle domande che nel corso del tempo lei poteva tranquillamente fare per avere il quadro della situazione. È vero che chiaramente lo stress, la situazione di shock, l'emotività che si ha in quel momento può giocare a brutti scherzi e quindi evitare di far pensare con lucidità, però a un certo punto se vuoi effettivamente sopravvivere devi porre certe domande come per esempio lei non si chiede in che anno si trova, per quanto tempo è rimasta in stasi criogenica, lo chiede a un certo punto, ma quando è tardi, più che altro non chiede nemmeno dove si trova realmente, non fa delle domande essenziali secondo me e in altri casi, in altri punti del film non si chiede per esempio se può avere altre fonti d'ossigeno a parte quella che sta terminando, proprio perché non crea il contesto intorno, serve alla sceneggiatura non avere del tutto chiaro le cose intorno, ma diventa poco verosimile e le trovate dal punto di vista della sceneggiatura per quanto riguarda le tematiche ad esempio appunto della criogenia, della stasi, della questione medica, dell'etica, dell'età, dell'eutanasia, questione terra e popolo terrestre, poi non aggiungo altro, comunque tutte queste questioni sarebbero anche interessanti ma sono quasi buttate all'interno appunto per creare una puntata mega di Black Mirror che però non riesce a incidere in nessuno di questi, io quello che dico sempre è che noi ormai le tematiche dalla letteratura, dalle sedi tv, dal cinema, dai videogiochi, ormai le tematiche sono sempre quelle chiaramente, possono solo essere quelle perché a un certo punto terminano, la capacità davvero di scrivere una buona sceneggiatura, di fare una buona opera, di un buon film è quella di rendere profonde certe tematiche oppure comunque di legarle ai personaggi che sono in scena e renderle proprie e in questo caso ci si riesce a metà nel senso che comunque un minimo di empatia per la protagonista si prova ma talmente tante sono le tematiche in così breve tempo che non vengono trattate secondo me in maniera del tutto brillante, anche se alcune idee ci sono, per esempio la tematica dell'eutanasia secondo me è interessante come viene trattata in relazione alla sopravvivenza del soggetto che a un certo punto vuole sopravvivere, le altre tematiche invece sono soltanto secondo me accennate per creare la costruzione scenica, poi si vede che chiaramente il budget probabilmente non deve essere stato altissimo perché a parte il fatto che è un film con un solo attore che è Melanie Noron che prende tutta la scena per la totalità del film ma si vede anche che magari si poteva fare qualcosa di più che non si è fatto e le scelte sono state a un certo punto al ribasso, però diciamo che dal punto di vista della fotografia siamo su un livello sufficientemente buono, lo stesso vale per la colonna sonora che forse è l'elemento che mi è piaciuto di più, il montaggio ho poco da dire, gli spazi sono quelli e per forza di cose il montaggio deve giocare un po' con i ricordi, un po' con quello che sta avvenendo all'interno della capsula, fa il suo ma niente di eccezionale, è proprio sulla verosimiglianza degli eventi, a un certo punto avevo io predetto o pensato di agire in un certo modo ad un'ora del film, la cosa che avviene, la risoluzione diciamo che avviene a un'ora e quaranta avviene con 40 minuti di ritardo rispetto a quando secondo me sarebbe dovuta avvenire perché logicamente certi passaggi ci sono, ce ne sono invece altri che diventano una ripetizione di concetti per creare un po' quella suspense o quel senso appunto investigativo da thriller nello spettatore che però appunto non ha verosimiglianza. Non voglio fare veramente troppi spoiler di questo film però per quanto mi riguarda siamo veramente lontani dalla sufficienza per quanto riguarda la trama proprio perché si prende davvero delle... fa delle scelte veramente poco verosimili. Un po' tutto il film sembra essere costruito a tavolino per inserire appunto quelle tematiche e anche l'assistente dell'intelligenza artificiale Milo chiede e dà dei consigli, delle informazioni viene gestito in maniera un po' artificiosa e non realistica rispetto alla volontà che dovrebbe essere quella di base di far sopravvivere il soggetto risponde un po' come se dovesse indirizzare la trama, come se servisse a un certo punto per la sceneggiatura rispondere in un certo modo e quindi evitare certe soluzioni, non consigliare certe soluzioni perché è la maniera appunto di far progredire il senso di questa storia ma non è ovviamente nuovamente verosimile. Quindi il mio voto per Oxygen è di 54 su 100 a rimarcare il fatto che ci troviamo di fronte a una trama che secondo me si perde nella sua inverosimilianza e nella volontà di costruire una puntata estesa di Black Mirror senza però riuscirci l'interpretazione di Melanie Noran è sicuramente una buona interpretazione ma anche lì se non sei supportato dalla profondità della trama e se le tematiche non vengono eseguite in maniera profonda e legate fra loro con quello che poi deve essere espresso a livello proprio di contenuti non riesce nemmeno ad emergere, fa una buona interpretazione ma sufficiente, niente di eccezionale e quindi il film secondo me non può emergere più di tanto. Se voi avete visto questo film però fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e cosa ne pensate in generale, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo ad un prossimo video.